Due nuovi capitoli di bilancio sono stati istituiti a Sant'Alfio grazie alla rinuncia deliberata nel 2013 dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali di maggioranza e d'opposizione. Per l'anno 2016 è stato possibile, grazie ai 1.440 euro messi a disposizione dai consiglieri del gruppo Siamo Sant'Alfio, ripristinare il bagno dell'Andorone del municipio, sostituire una vetrata posta all'ingresso del palazzo di città ed acquistare una tabella stradale da collocare lungo la strada provinciale 5-1 all'altezza di Fornazzo. I consiglieri del gruppo Movimento Sant'Alfiese hanno invece deciso di devolvere i propri gettoni per un importo pari a 650 euro per l'integrazione lavorativa di cittadini che vivono con grave disagio economico, attingendo alla gradatoria del servizio civico dell'anno 2017. Saranno tre i beneficiari che saranno impiegati per due mesi ciascuno. Questa iniziativa, condivisa da tutto il Consiglio Comunale nel 2013, dichiara il capogruppo di maggioranza Maria Coco, dimostra la volontà dei consiglieri di tutelare le casse dell'ente e di fornire un aiuto concreto ai cittadini. Quattro i progetti realizzati ad oggi grazie a queste rinunce, la creazione di un monumento ai piedi del Castagno dei Cento Cavalli, l'adesione all'Associazione Città delle Ciliegie, il contributo ad un cantautore etneo per un videoclip su Sant'Alfio ed infine la realizzazione di due rampe per disabili nelle piazze del Centro Storico.